I militari della Brigata Pinerolo di Bari in difesa dell'ambiente hanno ripulito l'area di Castel del Monte. L'addestramento e la tutela del territorio, altro che antitesi dicono i militari della Brigata Pinerolo di Bari che a Castel del Monte, simbolo della Puglia ma anche della Murgia dove in questi giorni si trovano per le esercitazioni hanno deciso di fare pulizia, di bonificare l'ambiente non più e non solo dagli ordini esplosivi ma soprattutto dai rifiuti che nel parco non mancano. E così armati di pazienza e bustoni i soldati hanno raccolto quanto turisti e vacanzieri lasciano senza curarsi delle conseguenze per l'ambiente. La presenza dell'esercito dunque è una risorsa economica innanzitutto e un'opportunità. Proprio perché noi condividiamo i valori, condividiamo questa necessità di preservare il parco, il territorio abbiamo inteso anche svolgere un addestramento sostenibile per il parco e quindi in questo momento noi ci stiamo cimentando in quello che abbiamo definito essere un campus che è un'attività di studio e di attività pratica in un territorio che ripeto va rispettato. Non è la prima volta che i militari della Brigata Pinerolo sono impegnati sul fronte ambientale e avviene anche in campo internazionale durante le missioni all'estero per il mantenimento della pace su una polemica con chi sostiene che la loro presenza sia in contrasto con la tutela del territorio. Il fatto di essere soldati, se mi permette, e quindi essere vestiti di verde non significa che sia in antitesi con il verde e l'ecologia, tutt'altro. E siamo al calcio, clamoroso.